La vicenda a Montari continua a far registrare reazioni. Oggi è stata la volta del presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, che ha definito esecrabile quanto accaduto domenica scorsa al Sant'Elia di Cagliari, con particolare riferimento agli insulti razzisti di cui è stato fatto oggetto il centrocampista ganese. Tavecchio è stato sollecitato sul caso, a margine della proiezione del docufilm Crazy for Football a Milano. Il presidente federale poi glissa sulla squalifica di una giornata combinata a Montari, limitandosi a dire che un presidente federale non commenta il comportamento dei giudici, poiché sarebbe una cosa non corretta. Abbiamo fatto in Italia un'attività di promozione, girando tutte le regioni con Fiona May. Quello che è successo è esecrabile, che ho stato Tavecchio, ho parlato col presidente del Cagliari, si faranno delle iniziative. Intanto la squadra prova a concentrarsi sul penultimo impegno stagionale all'Adriatico Cornacchia. Poteva essere uno scontro salvezza nella fase calda della stagione, invece quello col Crotone sarà un incontro potenzialmente utile solo per i pitagorici, e non per il Delfino, che semmai ha l'onore da salvaguardare. Nel 2012 il Pescara si è fatto tristemente ricordare per un girone di ritorno da due punti. Quest'anno invece potrebbe battere il poco invidiabile record di numero minimo di vittorie, tre, e di punti nella Serie A a 20 squadre, 21, appartenenti entrambi al Treviso, stagione 2005-2006. Oggi doppia seduta per la squadra di Zeman, che difficilmente recupererà Campagnaro, Vittorini e Stendardo. Qualche problema anche per Nicola, che sarà privo sicuramente degli squalificati Chrisetig Falcinelli, e quasi certamente dell'ex Stojan, dopo il malore accusato nei giorni scorsi. Proprio l'assenza dell'ex lancianese Falcinelli, obiettivo estivo del Pescara e pupillo del DS Leone, priverà il Crotone della principale bocca da fuoco della squadra, e il peso dell'attacco ricadrà su Trotta in gol contro il Milan.